L'ordinanza regionale che ha sancito il ritorno alla didattica a distanza per gli istituti superiori delle Marche non ha fermato l'organizzazione del secondo giro di screening voluto dal Comune di Pesaro. Si partirà giovedì 4 marzo con lo svolgimento dei test per le scuole medie della città, che saranno effettuati direttamente all'interno dei plessi anche nella mattinata di venerdì. Giovedì pomeriggio invece l'iniziativa si sposterà al campus e si allargerà i docenti, al personale della scuola primaria, dei nidi e della scuola dell'infanzia. Sempre al campus, nel pomeriggio di venerdì, potranno invece sottoporsi al tampone studenti, professori e personale delle superiori. Non è possibile che ancora una volta la scuola sia la prima a richiudere, alla prima difficoltà. Ci sono delle zone dove questa cosa è assolutamente condivisibile e comprensibile, penso ai dati di Ancona, però è una tendenza generale che sta di nuovo avvenendo e senza uno screening in periodico degli studenti noi non avremo scuola sicura. L'abbiamo dimostrato, l'abbiamo chiesto alla regione da mesi, se si fosse fatto lo screening nei mesi successivi forse le cose sarebbero migliori, non lo possiamo sapere, ma di certo è una cosa che serve. Quindi noi vogliamo rilanciarla di nuovo. Una grande risposta, grazie a Laila, alla Croce Rossa, a tutti coloro che collaborano, che è la dimostrazione che si può fare, che se si vuole il personale si trova, che la regione Marche dovrebbe farlo in tutta la regione periodicamente e che io credo anche l'Italia dovrebbe organizzarci diversamente, perché se si vuole garantire la scuola in presenza e finire l'anno in maniera dignitosa bisogna fare qualcosa, se non si fa nulla non si controllano i ragazzi e poi la prima difficoltà la scuola viene chiusa. Le giornate saranno quelle del 4 e del 5 di marzo, noi faremo uno screening completo sia agli studenti che il personale docente e non docente per le scuole medie. Andremo direttamente all'interno degli istituti comprensivi, quindi i ragazzi non si dovranno spostare e sarà fatto direttamente in orario scolastico. Mentre per quel che riguarda il personale docente e non docente, educatori e insegnanti, sia dei nidi, scuole dell'infanzia e scuole elementari, la giornata sarà quella del 4 di marzo il pomeriggio al campus scolastico. Mentre nel pomeriggio del 5 marzo daremo la possibilità a studenti, personale ata e docente degli istituti superiori. Questo ci è stato richiesto dagli stessi studenti comunque di garantire la possibilità di permettere loro comunque di effettuare il tampone in orario non scolastico, perché al mattino i ragazzi sono a scuola. È un'operazione nella quale ci credo, è un'operazione di squadra che abbiamo costituito già oltre un mese fa, una squadra consolidata che ha voglia di mettersi a disposizione per il bene della propria collettività. Quello che noi stiamo facendo come Comune di Pesaro è quello di permettere a questi ragazzi di tornare a scuola più facilmente e in più breve tempo possibile. Quindi è un appello veramente che cerco di rivolgere alla Regione, al nostro governo. Facciamo il possibile affinché questi ragazzi possano tornare a scuola. In questo momento storico e sociale è l'unica possibilità che ci è dato di fare ed è quella dello screening. Noi attraverso questa forma di prevenzione riusciamo perlomeno a garantire che alcune classi possano tornare in presenza, che alcune scuole possono tornare in presenza. Dove ci sono i focolai ovviamente si prendono provvedimenti sanitari diversi, ma noi ad esempio in questo frangente la città di Pesaro avrebbe potuto continuare a fare lezione. Grazie.